Questa mattina prosegue, siamo partiti con la Puteoli Sacra, quindi il rione di terra a Pozzuoli. Adesso ci spostiamo un po' più su, andiamo al Museo della Collegiata a Castiglione-Lora in provincia di Varese perché sarà, potremmo dire, un'estate alla moda, un nuovo laboratorio dedicato ai più piccoli perché il Museo della Collegiata resta aperto tutta l'estate, ferragosto compreso, con una nuova proposta per i più piccoli. Siamo collegati con la storica dell'arte Laura Marazzi, conservatrice del Museo della Collegiata e responsabile della sezione didattica. Buongiorno Laura, benvenuta. Eccoci, buongiorno, ciao, adesso ti sentiamo forte e chiara. Allora, parliamo di questo laboratorio dedicato ai più piccoli, tanto di cappello, che è un percorso che prevede quattro appuntamenti, iniziato ieri ma proseguirete fino al 21 agosto. Di che si tratta? Dunque, è tradizione per il Museo della Collegiata dedicare agosto alle famiglie con bambini, bambini della fascia dell'elementare, ultimo anno dell'asilo. Quindi ormai abbiamo i nostri fan, alcuni nel frattempo ovviamente sono cresciuti, che tornano volentieri. Ogni anno proponiamo un tema. Quest'anno è la moda. Il complesso del Museo della Collegiata è uno scrigno d'arte del XVII secolo, in cui abbiamo il privilegio di metterci davanti ad affreschi, cicli di affreschi di maestri toscani, Masolino da Panicale, Paolo Schiavo, il Vecchietta, nel Battistero e in Collegiata, e di poter osservare l'abbigliamento, in particolar modo i cappelli, dei protagonisti, delle storie che vengono raccontate grazie al pennello di questi grandi maestri chiamati a Castigliono-Lona dal Cardinale Branta Castiglioni. Quindi seguiamo questo tema, come bambini, facendoci portare da un personaggio che è un cilindro magico che durante il percorso da indizi, suggerimenti, fa comparire ogni tanto delle scatoline magiche a doppio fondo che rivelano l'etapa successiva solo quando la prima è stata svolta, quindi c'è una forte componente ludica. Ma insegniamo ai bambini a distinguere la mitria dal galero, dal triregno e poi appunto anche dal punto di vista comunicativo la buttiamo un po' sul gioco. Sapete che il balzo non è un grande salto, vedranno i bambini la bellissima erodiade con questa sorta di gonfia acconciatura, copricapo, che appunto molto alla moda allora nel XIV secolo, o il mazzocchio che sembra quasi un'arma di primo acchito quando si chiede ai bambini cosa può essere il mazzocchio, pensano a qualcosa di truce, e in realtà è semplicemente un cappello sul quale si sono cimentati molti pittori. Paolo Uccello era un grande disegnatore di mazzocchi perché per cimentarsi con la tridimensionalità e con la prospettiva noi abbiamo un altro fiorentino neri di bici con una crocifissione, con un personaggio alla modissima. Laura, scusami se ti interrompo, mentre ci stai appunto raccontando queste cose molto interessanti stiamo facendo scorrere alcune immagini random ecco del Museo della Collegiata e di tutte le opere che l'arricchiscono, quindi davvero ci stiamo inebriando di tanta bellezza artistica. Sì, prego. No, dicevo che dopo questo giro alla scoperta in cui ci si muove fisicamente tra Collegiata, le sale museali e il Battistero, ci si ferma sotto i tigli ombreggiati che fiancheggiano la canonica per il laboratorio, quindi i bambini creano il loro cappello, ovviamente cappelli di fantasia, non pretendiamo che riproducano il balzo, il mazzocchio o altri strani copricapi. Ecco, e che cosa viene fuori da questo laboratorio, dai più piccoli? Ma ieri c'è stato il primo... Aspetta, ti abbiamo persa qualche... Il prossimo mercoledì... Scusami, ti abbiamo persa qualche istante, dicevi ieri c'è stato appunto il primo appuntamento. Continueremo il prossimo mercoledì e il mercoledì successivo, sia mattina che pomeriggio, su prenotazione. Ieri abbiamo visto i bambini molto presi da questo, diciamo, percorso di indovinelli, ma anche il momento del laboratorio, dove vediamo i più grandi che tendono alla simmetria, all'ordine, i più piccoli invece che si sbizzariscono a utilizzare tutti i tanti materiali che mettiamo a disposizione. Quasi una sfida a riuscire a incollare sul cappello tutto il possibile dei più diversi colori. Quindi una gioia, un momento anche di pausa per le famiglie, finalmente senza fretta, senza dover incastrare questo appuntamento in mille impegni. Si sente proprio anche il piacere dei genitori, dei nonni, nel dedicare un momento di pausa all'arte. Che meraviglia. Allora, lo hai ricordato, bisogna prenotarsi, chissà se c'è ancora qualche posto disponibile per questi altri due appuntamenti, 14 e 21 agosto, 10 e 30 e 15 e 30. Ricordo il sito Museo Collegiata, quindi con due L e una sola G, e per questo percorso collaboratorio, tanto di cappello. Vorrei ricordare, Laura, un altro appuntamento. Domani, Vigilia di San Lorenzo, sarà celebrata in collegiata la Santa Messa alle 18 in memoria del più antico patrono della collegiata, sorta 600 anni fa sulla chiesa parrocchiale, ormai in rovina, dedicata a questo santo martire. Quindi appuntamento con questa celebrazione alle 18, Vigilia di San Lorenzo. Poi magari ci sentiremo per altri appuntamenti, perché come dicevo, il Museo della Collegiata non chiude neanche il giorno di ferragosto. No, infatti, rimaniamo aperti sia mattina che pomeriggio, grazie a un gruppo di volontari molto presenti, molto motivati, l'Associazione Amici di Masolina e dintorni, tutto il complesso della parrocchia di Castiglione Olona, quindi convergono più forze per garantire ai locali e ai turisti questa possibilità continua di tuffarsi in quella che Gabriele D'Annunzio ha definito l'isola di Toscana e Lombardia. Che meraviglia! Allora, speriamo di venire presto a vedere di persona questo bellissimo museo della Collegiata a Castiglione Olona in provincia di Varese. Grazie alla storica dell'arte e conservatrice del museo Laura Marazzi per essere stata ospite con noi questa mattina. Grazie e allora speriamo di risentirci presto magari per altre novità che arrivano sempre dal Museo della Collegiata. Grazie a voi. Ciao, buona giornata.